Sono Dario Fabri e questo è Sotto la pelle dell'America, un podcast Feltrinelli. La depressione degli statunitensi ha un effetto, dicevamo, diretto sul mondo. Non è capriccio studiarla, indagarla, perché abbastanza di ciò a cui assistiamo è determinato dal momento degli Stati Uniti e quindi dal loro momento di psicologia collettiva, oltre che di fase storica, temporale, eccetera. In che senso? Riprendendo una vecchia massima che era di Sant'Agostino, il Roma Locuta di Sant'Agostino, cioè Roma ha parlato e tutti zitti, che era la massima superiorità del canone cattolico e non solo, e anche imperiale di Roma, questo poteva essere applicato agli Stati Uniti fino a qualche tempo fa, alla quarta Roma, cioè a Washington. Oggi molto meno. Oggi chi sfida gli americani, cioè i rivali degli Stati Uniti, hanno assai meno paura di incappare nella loro rappresaglia. I russi, anzitutto i cinesi, mettiamoci gli iraniani, mettiamoci addirittura i turchi, sebbene siano un membro della Nato, ma fisiologicamente un impero antagonistico agli Stati Uniti. Ebbene, tutti questi soggetti hanno meno paura degli Stati Uniti, che sembrano presi soprattutto al loro umbellico, dal guardarsi dentro, dall'interrogarsi sul proprio momento, dalla loro crisi di identità, eccetera. E in Medio Oriente l'impressione che abbiamo è che questo sia il quadrante dove la voce americana sia addirittura meno ascoltata. Come mai? Non è soltanto questo, c'è anche qualcosa di più. Perché siamo in piena guerra medio orientale, come è chiaro, ed è una guerra essenzialmente tra Israele e Iran, nella quale la questione palestinese è in noi una specie di suppellettile, detto in maniera molto cruda e anche intollerabile. Perché poi della questione palestinese in realtà i popoli limitrofi si interessano assai poco, nonostante gli sbandieramenti strumentali nella difesa della causa, gli arabi anzitutto figurarsi i persiani o i turchi ancora meno. La questione laggiù è il conflitto per l'egemonia tra Israele e l'Iran, ovviamente poi presentato con buoni, cattivi, eccetera. Alcuni lo sono davvero, altri un po' meno. Ma il grosso è tutto qui. E gli Stati Uniti, che comunque provano a essere ingerenti nei confronti di Israele, con state buoni se potete, almeno così appare da lontano, non vengono ascoltati. Non dall'Iran, che è naturalmente un nemico degli Stati Uniti, ma non da Israele, che è stato a lungo e per molti anni, e parzialmente lo è ancora una forma di emanazione americana per gli armamenti forniti dagli Stati Uniti, per la narrazione, in alcuni casi addirittura simile a quella americana, sebbene in senso regionale, quindi l'unica democrazia del Medio Oriente, il paese che comunque rappresenta l'occidentalismo laggiù, eccetera. E oggi Israele, più che sembra, direi che è esattamente così, non ascolta gli appelli statunitensi. È soltanto una questione di minore rilevanza e di incertezza americana a determinare tutto questo? Non solo. Perché a Medio Oriente la situazione è anche più complicata, ovvero Israele conosce la genesi del disimpegno americano. Perché negli anni dieci di questo millennio gli Stati Uniti hanno segnalato di volersene andare. Dopo aver preso schiaffi tra l'Iraq e l'Afghanistan, l'Assemblea dell'Afghanistan non sia come ovvio un paese medio orientale, ma comunque inserito in maniera un po' impropria nel Grande Medio Oriente, all'epoca gli Stati Uniti hanno pensato di rivedere la loro esposizione in quella regione, pure perché nel frattempo sono diventati indipendenti sul piano energetico. L'hanno fatto con enormi costi ambientali, anche sfasciando una parte del loro habitat, dell'habitat nazionale degli Stati Uniti, con la fratturazione idraulica, gli idrocarburi tascisti, eccetera. Fatto sta che sono diventati indipendenti energeticamente, quindi oggi esportano gli idrocarburi, il petrolio ma anche il gas liquefatto. E per tutte queste ragioni negli anni dieci di questo millennio hanno detto noi ce ne andiamo, rivederci e manco grazie. Non è vero fino in fondo, sono ancora lì, però il loro impegno è nettamente minore nella regione rispetto, neanche a dirlo, a vent'anni fa. E quando hanno pensato di andarsene, tutto questo è suonato come un vantaggio per i loro nemici, almeno un vantaggio auspicato, immaginato, l'Iran e i suoi agenti, e tra poco ci arriviamo, ma è suonato come grande preoccupazione per quelli che noi chiamiamo gli alleati, che non sono alleati di niente, ma i clientes degli Stati Uniti laggiù, cioè i protetti dagli americani, quindi le monarchie del Golfo su tutti, quindi sauditi ma anche bareniti e miratini e poi anche i giordani e anche gli egiziani, con l'Egitto ovviamente non è una monarchia ma è dentro il campo americano da molto tempo. E quando gli Stati Uniti hanno detto noi, per tutte le ragioni di cui sopra ce ne andiamo, questi soggetti hanno alzato la mano, hanno detto, chiedendo, e noi, punto interrogativo, la risposta che si sono sentiti ricevere dagli americani è stata voi fatemi proteggere da Israele. Perché proprio da Israele? Perché Israele è l'unica potenza nucleare della regione e non è esattamente un dettaglio, un asterisco qui, non esiste nessuna guerra di religione in Medio Oriente, proprio che non è mai esistita nella storia dell'umanità, ma questo forse ci porterebbe un po' lontano, le religioni di solito ammantano questioni che le precedono, tanto più o tanto meno in Medio Oriente, in cui in questo momento non assistiamo a nessuna guerra di religione. Essenzialmente è Israele contro l'Iran ed è Israele contro l'Iran che si dividono gli arabi, quindi c'è una cospicua parte di arabi maggioritaria, oserei dire, che è con Israele, infischiandosene della causa palestinese, e un'altra parte di arabi che invece è con l'Iran. Ovviamente immagino sia inutile ricordare che gli iraniani non sono arabi, sono l'esatto opposto degli arabi, sono persiani, sono indoeuropei, sono imparentati con noi e noi con loro, gli arabi sono semiti, quindi sono imparentati con gli ebrei israeliani, ma non è una questione religiosa, perché tanto gli arabi quanto i persiani, cioè gli iraniani, sono musulmani, eppure sono, quando si tratta di monarchie del Golfo, gli uni contro gli altri, perché per i sauditi, per gli emirati arabi uniti, per il Bahrain, il Qatar è una storia a sé, ma per questi che ho citato l'Iran è il principale nemico, la Persia è lo storico nemico, ed è uno storico nemico che si è preso la parte minoritaria degli arabi, che sono gli arabi sciti, anche qui la disputa non è teologica, questo ci porterebbe molto lontano, ma di solito gli sciti sono quelle tribù arabe che proprio perché escluse dal potere, dalla maggioranza nel corso di secoli, hanno scelto un'altra via teologico-confessionale proprio per staccarsi dalla maggioranza che li escludeva dal potere, maggioranza tribale, e prendersi invece una voce. E si fanno proteggere dai persiani, perché questo? Perché i persiani sono nemici, in larga parte, degli altri arabi a cui sono sottoposti in casa. Di chi parliamo? Beh, gli arabi sciti che afferiscono all'Iran sono essenzialmente libanesi, quindi Hezbollah per come lo conosciamo, ci sono dentro gli Yemeniti sciti, che sono gli Uti, e poi le milizie sirio-irachene, e poi gli alawiti di Damasco, quindi siamo ancora in Siria, sono i principali agenti, proxy si direbbe in cacofonia, dell'Iran. Israele ha tutti quei soggetti che invece chiedevano di essere protetti dagli americani. Quindi siamo davanti ad uno scontro di questa natura. Perché la voce degli Stati Uniti è inferiore in un contesto così? Proprio perché Israele sa bene di essere stata incaricata dagli americani di fare il lavoro che gli americani non intendono più fare direttamente. E non si può entrare e uscire dalla medesima porta troppe volte. E quindi adesso che gli americani invitano la cautela, la prudenza, eccetera, si sentono rispondere dal governo israeliano, avete delegato a noi, e noi gestiamo il dossier come meglio o peggio possiamo. Questo lo lascio decidere a chi ci ascolta. Cioè in che modo? Al centro della vicenda ci sono i cosiddetti accordi di Abramo, che sono un'invenzione americana, coeva esattamente del periodo in cui gli Stati Uniti hanno pensato di andarsene. La carta intestata su cui questi accordi sono stati firmati è statunitense. Formalmente si tratta di accordi che prevedono il mutuo riconoscimento tra Israele e le principali monarchie del Golfo. Sono stati firmati appena dal Bahrein e dagli Emirati Arabi, oltre al Sudan e al Marocco, e a matita dall'Arabia Saudita. A matita vuol dire non possiamo annunciarlo ancora, ma siamo con voi. In realtà non è soltanto questo, non sono soltanto questi gli accordi di Abramo, che se vengono raccontati per l'appunto come una sorta di pittori della Domenica, che si sono ritrovati sulla collinetta e hanno scoperto che Israele è un bellissimo posto, e che quindi valeva la pena per tutti questi soggetti citati riconoscerlo diplomaticamente, quindi con scambio di legazione, eccetera. Oltre a questa narrazione da dipinto ad olio, gli accordi di Abramo sono una forma di contenimento dell'Iran. Cioè questi paesi firmatari, sia diretti che meno, si sono posti sotto la famosa gonna nucleare di Israele, per farsi proteggere da Israele e contenere l'Iran, il loro grande nemico. Da questo, e non solo da questo, ma soprattutto da questo, nasce l'attacco del 7 ottobre 2023. Un attacco portato da Hamas, quindi sono arabi ma sunniti palestinesi, sono anche cristiani in una minoranza, ma in larga parte musulmani sunniti, che dunque non c'entrerebbero niente con l'Iran, ma per quello che dicevamo prima, la causa palestinese è indifferente alla stragrande maggioranza degli arabi, al di là delle chiacchiere, è proprio per solitudine Hamas si avvicina all'Iran, che comincia a finanziarlo, comincia ad addestrarlo, a coprirlo, eccetera. E qui l'agenda si fa duplice, perché l'agenda di Hamas nell'attaccare Israele era umiliare la deterrenza israeliana per immaginare una sollevazione in Cisgiordania, perché Hamas controllava Gaza, ma non la Cisgiordania, altro territorio, come è ovvio, palestinese, e quindi attraverso questa prova di forza segnalare a quegli altri arabi di Cisgiordania di protestare con noi perché noi siamo quelli potenti, quelli che vi possono difendere. Ma al di là di questa agenda diretta c'era l'agenda dell'Iran. L'Iran voleva invece umiliare la deterrenza israeliana per segnalare ai firmatari e non degli accordi di Abramo che non conviene loro nascondersi dietro Israele, perché la superpotenza militare della regione si è lasciata mandare in tilt per oltre 24 ore da una milizia sgangherata, improbabile come Hamas, che non fa paura a nessuno, addirittura con l'umiliazione massima degli ostaggi, anche dolorosissima, trasportati a Gaza. Questo era l'intento iniziale nell'agenda dell'Iran, al quale intento Israele ha risposto in forma sproporzionata, scientificamente sproporzionata, distruggendo oltre il 60% degli edifici di Gaza, ad oggi oltre 40 mila vittime, con oltre un milione e mezzo della popolazione sfollata da Gaza, a Gaza ha poco più di 2 milioni di abitanti, in un territorio grande più o meno come il lago di Garda. Non è soltanto incontinenza emotiva quella israeliana nel reagire in questo modo, che può essere anche parzialmente comprensibile dopo quanto subito il 7 ottobre, c'è anche un intento tattico, cioè ripristinare la deterrenza. La deterrenza, detto in termini mangiabili, è la paura che tu fai negli altri, che tu incuti negli altri, cioè come a dire non vi conviene attaccarci, perché noi sappiamo reagire in maniera molto grave. E questo l'abbiamo visto nella striscia di Gaza e adesso anche nell'estensione al Libano del conflitto, nel quale non possiamo addentrarci oltre. Ciò che ci interessa in questo momento è che gli americani, che tutto questo hanno voluto, che tutto questo hanno favorito per il loro disimpegno, perché hanno altre cose a cui pensare, la loro depressione, la loro crisi di identità, come abbiamo raccontato, e poi l'Indo-Pacifico dove c'è la Cina e la guerra in Ucraina dove ci sono i russi, eccetera, questo loro delegare a Israele oggi induce Israele a dire agli americani stessi da qui in poi facciamo noi, perché questo avete voluto. Vale la pena anche ricordare in Medio Oriente, nel caso israeliano in assoluto, che siamo davanti ad un unico, cioè da parte le giunte militari che si trovano nel mondo, nelle grandi potenze, questo è davvero un caso unico, Israele è l'unica di queste, che ha un governo composto da tutti ufficiali o ex ufficiali dell'esercito. Tutti i ministri israeliani hanno consumato il servizio militare di almeno tre anni e lo hanno fatto quasi tutti, se non tutti, da ufficiali delle forze armate. Perché questo è rilevante? Perché comunque quando gli statunitensi, cioè l'amministrazione americana, parla con Israele, non parla da politico a politico, parla da chi adesso è politico, ma anche un passato da tecnico, un passato da tecnico militare, che quindi tradotto, conosce il dossier meglio di qualsiasi interlocutore americano, se non sia un interlocutore proveniente dal Pentagono o dalla CIA, per capirci, e che quindi riesce anche a interrompere, anziché a sabotare le richieste, gli strali in molti casi provenienti dagli Stati Uniti. E allora ciò a cui assistiamo in Medio Oriente è da un lato questo atteggiamento da sede vacante statunitense che è generale nel mondo, più o meno, ma ancora di più in Medio Oriente per queste ragioni specifiche. Cioè è come se laggiù gli statunitensi se la fossero un po' cercata, cioè avessero voluto questo scenario. Credo infatti che ci sia da parte loro anche un po' di blef. Ci sarà genuinamente, c'è di sicuro, una prensione per la popolazione di Gaza anziché per quella del Libano meridionale, ma c'è anche una forma di ipocrisia, perché comunque agli Stati Uniti che Israele conduca in questo modo il contenimento dell'Iran non dispiace. Fa lavoro sporco, lo fa per se stessa, ma lo fa anche per gli americani, tiene più o meno in equilibrio una regione che potrebbe sprofondare a patto che, ed è qui c'è il discrimine decisivo, che questa condotta non conduca proprio ad un approfondimento del conflitto. Perché se questo accadesse, cioè che cosa? Guerra diretta Israele-Iran? Ci sono state delle prove tecniche di attacchi che poi non sono diventate una guerra massiccia, diretta. Se questo accadesse, vorrebbe dire per gli americani tornare alla casella di partenza. Cioè tornare ad inserirsi, ad agire, ad intervenire in Medio Oriente esattamente ciò che non vogliono. proprio il motivo per cui hanno delegato agli israeliani tutto questo. Ed è quel discrimine minuto, fragilissimo, su cui balla il parziale e soltanto americano equilibrio in quella regione, che come detto è dettato dal solipsismo, dalla crisi di identità, ma anche da questioni congiunturali e specifiche nel rapporto con Israele e con il Medio Oriente allargato. Grazie. Grazie. Grazie.